Cosa è il teatro di teatro? Questo mio ritorno è sempre difficile fare un programma di Natale perché si continuano a proporre sempre soliti brani, quindi questa volta abbiamo cercato di un programma un po' ricercato se vogliamo, ma anche facente parte delle feste di Natale. Buck per l'organo, quindi tre corali orchestrati meravigliosamente dal grande Respighi, questo brano di questo autore Maxwell Davis che è degli anni 30-34, che è un po' più vicino al nostro mondo moderno, Star Wars se vogliamo, John Williams, e l'ottava di Volgia che è una sinfonia fresca, dolce e quindi innovativa e quindi vicina alla festa e ai giovani. Voi avete un'orchestra come questa che non c'è in tutte le regioni italiane, un'orchestra di tale valore e quindi vi aspettiamo in tutti questi concetti che noi faremo in regione. Venite, accorrete, buon anno e buon Natale, ci saranno anche delle sorprese.